ArcelorMittal è decreto sicurezza prensione per il futuro del sito produttivo di Taranto Marcegaglia non solo un anniversario in arrivo investimenti e nuove acquisizioni British Steel il paradigma dello Stato e delle prospettive della siderurgia nel Regno Unito Verso il ruttame in 4D il 4 luglio a Milano l'evento Siderweb in collaborazione con Ricrea Buongiorno e benvenuti alla nuova edizione del Siderweb TG L'allarme lanciato martedì scorso da ArcelorMittal Italia ha provocato viva preoccupazione oltre a una serie di reazioni Come da nota leggiamo se il decreto sicurezza dovesse essere approvato nella sua formulazione attuale Aveva annunciato appunto l'azienda la disposizione relativa allo stabilimento di Taranto Pregiudicherebbe per chiunque ArcelorMittal compresa la capacità di gestire l'impianto nel mentre si attua il piano ambientale Dal misera Federaccia e da Assofermeta i sindacati hanno voluto esprimere il proprio punto di vista sulla sortita dell'azienda Ed era inevitabile che anche dall'assemblea annuale di Federmeccanica che si è tenuta venerdì scorso Proprio all'interno del sito ArcelorMittal di Taranto arrivasse una presa di posizione Sentiamo Matteo Geul lo sapeva L'assemblea generale di Federmeccanica che venerdì scorso si è svolta proprio all'interno del sito siderurgico Tarantino Attendeva le sue parole e lui non si è tirato indietro Siamo impegnati a migliorare le prestazioni ambientali di Taranto e a rispettarne l'ambiente Ha spiegato Ma non possiamo essere detenuti potenzialmente responsabili per problemi che non abbiamo causato E che ci siamo impegnati a risolvere Non è una questione di immunità Noi tutti siamo qui responsabili delle nostre azioni Ha proseguito Geul Si tratta delle tutele legali necessarie a permetterci di realizzare il piano ambientale Parole forti anche dal presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz Non rispettare gli accordi ha detto è l'esatto opposto del significato di fiducia Paese che non rispetta gli impegni con investitori stranieri perde credibilità E quindi perde la fiducia anche all'estero Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della fondazione Ma non solo, anzi perché se la presentazione delle iniziative appunto alle celebrazioni È stata l'occasione per i fratelli M e Antonio Marcegaglia di rivolgere un pensiere a chi Steno Marcegaglia ovviamente è belagenale, intuizione di dar vita al tutto C'è stato ampio spazio anche per annunci molto interessanti sotto il profilo imprenditoriale Il gruppo Mantovano Marcegaglia celebra i 60 anni dalla fondazione Con investimenti per circa 600 milioni nei prossimi 5 anni Sono investimenti sull'efficienza, sull'efficienza energetica, sull'innovazione, sul rinnovo delle tecnologie, la formazione Ma anche la crescita interna ed esterna per acquisizioni L'obiettivo è di restare e anzi incrementare il ruolo nostro di protagonisti nel settore metallo siderurgico italiano ed europeo Servono dei cambiamenti sia a livello di politica italiana, bisogna lavorare più sugli investimenti, sul taglio del costo del lavoro Tutto a favore dei collaboratori come dice la Confindustria, bisogna tornare a investire fortemente Però poi dall'altra parte ogni imprenditore deve fare la propria parte Il legame con il territorio si rafforza con Casa Marcegaglia, un'idea innovativa pronta nella prossima primavera Per fare cultura d'impresa, per fare formazione attraverso un'academy, per fare socializzazione con il territorio Attraverso un dialogo costante con tutti gli stakeholder La messa in liquidazione di British Steel, secondo gruppo siderurgico britannico Attualmente in amministrazione controllata è il paradigma del declino del settore del Regno Unito Un'analisi del centro studi Siderweb mette a fuoco il presente e il possibile futuro Il tentativo di rilancio del marchio, tre anni fa, aveva costituito l'epilogo provvisorio di una crisi Innescata dalla riduzione delle attività da parte del colosso indiano Tata, leader sull'isola Era subentrato un nuovo investitore, Greybull Capital, che si era impegnata a investire 400 milioni di sterline Per far rivivere la società e portarla inutile In effetti, nel 2016 si era registrato un utile di 108 milioni di sterline Ma già l'anno dopo c'era stata una perdita di 7 milioni Il patrimonio netto, pari a soli 44 milioni nel 2016, si era ridotto a 22 l'anno successivo A significare l'insufficienza di mezzi propri a fronte di un fatturato passato nel frattempo Da 1.235 a 1.346 milioni di sterline La crisi di British Steel è comunque emblematica dello stato di salute dell'industria siderurgica inglese Gli impianti esistenti sono in gran parte obsoleti E la produzione di acciaio da un picco di 25 milioni di tonnellate nei primi anni 70 È scesa a poco più di 7 nel 2018 Con una riduzione degli addetti a 30 mila dai 320 mila del 1971 Nonostante questa riduzione però Il Regno Unito presenta alcuni vantaggi competitivi dei quali si potrebbe trarre profitto Dalla trasformazione in atto nella produzione di acciaio a livello globale Il primo è rappresentato dal fatto che nel Regno Unito Si producono circa 10 milioni di tonnellate di rottami di ferro all'anno Che vengono in gran parte esportati con un basso valore aggiunto Ma che potrebbero essere la materia prima per espandere la produzione di acciaio con forno elettrico Il secondo è che grazie alle politiche attive sul cambiamento climatico Il Regno Unito ha già una rete elettrica con basse emissioni Con possibilità di ulteriori miglioramenti Il terzo è che con una lunga storia di innovazione e di successo Nelle tecnologie di produzione e lavorazione dei materiali Il Regno Unito è molto avanti nelle tecnologie in grado di aumentare la qualità del rottame di ferro Siderweb è in preparazione del convegno Il rottame in 4D che si terrà il 4 luglio a Milano Propone una serie di tre approfondimenti dedicati al mercato nazionale del rottame Il primo si concentra sul confronto tra il costo della carica del forno elettrico e il prezzo della vendita L'analisi che si concentra sul periodo 2010-2019 Mostra una generale ripresa del differenziale tra carica e prezzo del finito avvenuta negli ultimi anni Che ha portato il comparto ad incrementare la propria redditività Elemento che era stato critico dopo la crisi del 2008-2009 e negli anni successivi In particolare per i lunghi il periodo 2010-2014 è stato contraddistinto da un'erosione pressoché continua Del differenziale tra costo della ricarica e prezzo del finito Circostanza che insieme al calo dei consumi sul mercato interno Aveva provocato sofferenza in bilancio per le imprese del settore A partire dal 2014 invece il trend è cambiato I prodotti ad uscire prima da questo tunnel sono stati i laminati mercantili Che proprio nel 2014 hanno iniziato a recuperare terreno Raggiungendo il massimo dello spread del 2015 E rimanendo su valori elevati anche negli anni successivi Per tradi e tondo, per ciò molto armato La situazione è leggermente diversa Con il recupero partito in ritardo ma ancora in corso Tanto che per entrambi i prodotti attualmente siamo sui massimi del periodo Rispetto agli scorsi anni quindi Nel complesso del settore ha recuperato marginalità Tornando anche grazie al miglioramento dei consumi Su buoni valori di redditività in bilancio Sarà ora necessario monitorare se il previsto rallentamento Della domanda di acciaio nazionale ed europea Avrà effetto oltre che sui volumi anche sui delta rottane finiti Gli approfondimenti sul rottane dedicati al commercio estero italiano E al confronto italiano tedesco Sono programmati per il 26 giugno e il 2 luglio su siderweb.com Per questa edizione è davvero tutto L'appuntamento con Siderweb Tg è per lunedì prossimo Arrivederci a tutti